Ben tornati a sursi Come avete visto abbiamo ripreso le nostre puntate con l'inizio dell'autunno più o meno e adesso andiamo avanti raccontandovi i piccoli sorsi di vino. Questa volta vi voglio raccontare vi voglio dare una spiegazione su un termine che viene spesso usato per definire i nostri spumanti il vino millesimato trovata pubblicitaria realtà estremo pregio o semplicemente lo facciamo sempre. Andiamo a vedere intanto il termine millesimato se andate a cercare sulla tre cani lo definisce come il participio passato del termine francese millesimè cioè contrassegnare con il millesimo. E viene utilizzato per appunto contrassegnare l'anno in cui il vino viene prodotto se ci fate caso tanti vini vengono contrassegnati con il millesimo non solo gli spumanti. Tra noi esperti del settore viene spesso portato ad esempio il famoso Barolo del 1968 ecco è un vino rosso che ha un millesimo il millesimo di produzione quindi tantissimi vini doc di OCG italiani hanno effettivamente il millesimo di produzione. che non va a significare una maggiore o migliore qualità ma semplicemente l'anno in cui il vino è stato vendemmiato quindi nel caso del Barolo del 68 si saprà quanti anni ha quel Barolo e forse è anche il caso che ce lo beviamo. Ma il millesimo nello spumante invece ha tutto un altro significato innanzitutto parte la tradizione parte dallo champagne o dal metodo champenoise o metodo classico qui in Italia. Lo champagne a frutto del sapiente sapientissimo e attentissimo assemblaggio di tre uve lo chardonnay il pinot nero e il pinot menier che vengono non necessariamente vendemmiate nello stesso anno. Parte della produzione di queste tre uve in effetti ogni anno viene anche messa da parte per poter poi essere utilizzata successivamente anche nelle annate successive per mantenere l'aspetto qualitativo e sensoriale è simile per tutti i vini. Nello specifico questi vengono chiamati appunto i vini di riserva ma queste masse vinicole di riserva tra virgolette possono essere mantenute anche per dieci anni in differenti contenitori possono essere vasche di acciaio, vasche in cemento, bottiglie grandi eccetera e vengono utilizzate anno dopo anno per poter andare a creare quella cuve speciale e particolare che ogni maison che è come si chiama ogni casa vinicola che ogni maison poi che diventa rappresentativa di ogni maison di champagne. Nell'annata in cui le tre uve sono particolarmente perfette, sono particolarmente adatte, hanno tutti i requisiti per essere eccezionali tutte e tre nella stessa annata ebbene quell'annata di quel vino avrà il millesimo. Tutte le altre produzioni che sono circa il 90% della produzione di champagne è una produzione senza anno si chiama sans année e sulle bottiglie vedete scritto S puntato A puntato che vuol dire senza anno quindi senza il millesimo non è minore qualità, è semplicemente un assemblaggio delle differenti anni. Il millesimo nello champagne invece è l'assemblaggio, la cuve delle tre uve principali dello stesso identico anno senza nessun'altra interferenza interna. È chiaro che a me sembra abbastanza ovvio che non può essere eccezionale ogni anno, è per quello che ci deve essere un millesimo. Se fossi tutti gli anni eccezionale non avrebbe senso avere il millesimo. Per esempio in Francia, nello champagne, l'annata 2001 o la 2010 non sono state millesimate perché sono state due bruttissime annate, mentre la 2003 che è stata un'estate abbastanza calda e ha prodotto delle uve particolarmente adatte, è stata millesimata. Considerando poi che il disciplinare permette l'uscita sul mercato di un vino millesimato anche dopo solo 30 solo, dopo 36 mesi, ci sono alcune maisons case vinicole che producono champagne che aspettano 4, 5, 6, a volte anche 10 anni per far uscire un vino millesimato e ci sono anche delle maisons che fanno due millesimati a decennio, rendendoli così estremamente più pregiati, ricercati e chiaramente costosi. Perché comunque la creazione di un millesimato, la produzione di un millesimato prevede estrema cura in vigna, come per qualsiasi altro vino, ma altrettanta estrema cura anche in cantina. Figuratevi che fonti storiche riferiscono che la prima bottiglia di champagne millesimata uscita sul mercato è della casa Veuve Clicquot e era del 1810. A voglia i millesimi che sono passati dall'epoca. E quindi abbiamo visto come funziona il termine millesimato. Quindi viene dalla cultura dello champagne, viene dalla cultura francese e va a indicare le uve, la perfezione delle uve di una determinata annata che vanno a rappresentare perfettamente, a essere portavoci, bandiere, vini di punta di quella determinata maison per quell'anno. In Italia sappiamo che non possiamo chiamarlo champagne, ma si chiama metodo classico, ma è sempre la seconda fermentazione in bottiglia. Le procedure sono praticamente le stesse. Abbiamo più o meno le stesse uve, c'è meno Pinot Menier, abbiamo più Pinot Bianco, ma insomma Cerdonais, Pinot Bianco, Pinot Nero. In Trentino comincia a esserci anche il Pinot Menier. I mesi di fermentazione minimi per poter produrre un millesimato sono 30 anziché 36 come in Francia. e il disciplinare italiano ammette una correzione di un 15% con le uve di annate precedenti, cosa che in Francia invece non è ammessa. Le uve che producono un vino millesimato, uno champagne millesimato, devono essere al 100% le uve della stessa annata. In Italia abbiamo un piccolo ammorbidimento per quanto riguarda la produzione, quindi ci permettono un 15% di altre annate. È appunto una tradizione, anche un'abitudine dei vignaioli, destinare la parte migliore di una vendemmia appunto per la creazione, la produzione dei nostri metodi classici millesimati. Mentre in alcune zone ogni anno vengono messe da parte delle piccole percentuali di vino per poter poi aiutare la creazione del millesimato, in alcune altre parti invece vengono fatte solamente le uve, proprio come nello stile francese, la perfezione delle uve dello stesso anno. Qui nella nostra zona, con il nostro spumante prosecco di OCG, molte volte si vedono le bottiglie di prosecco millesimato. In alcuni casi spiegare a un cliente il perché un prosecco è millesimato che a volte crea dei, non dei problemi, però delle difficoltà. Perché? Il prosecco viene vendemmiato ogni singolo anno. Fresco. È un vino fresco, da bere nell'annata, al massimo entro due anni. È un vino fatto con una sola uva, con la glera. Apro una parentesi. Quindi, il disciplinare dice che il prosecco di OCG deve essere composto da un minimo dell'85% fino al 100% di uva glera. Quel 15% che avanza può essere di vitigni autoctoni o vitigni internazionali. Nella maggioranza delle case vinicole della nostra zona viene prodotto con il 100% di glera. Chiusa parentesi. Quindi, posto che, vendemmiato ogni anno, con la stessa uva della stessa qualità, tecnicamente ogni anno è un millesimo. E di conseguenza non avrebbe senso millesimare la bottiglia. Però, giustamente, l'ho chiesto più di una volta ai produttori, ne conosco qualcuno, ho chiesto più di una volta ai produttori perché comunque andassero a identificare con il millesimo alcune bottiglie e altre no. E la spiegazione che mi è stata data mi è piaciuta molto perché trovo che sia estremamente corrispondente alla passione per il territorio, alla passione per la produzione del proprio prodotto. Praticamente, prendono spunto anche loro dai francesi facendo cosa? Prendendo l'uva migliore, magari di una singola parcella di vigna, di vigneto, e l'uva migliore, o la prima uva che viene vendemmiato, l'uva migliore di una singola parcella di vigneto verrà designata, verrà dedicata, verrà portata per il millesimo, per fare le bottiglie millesimate, quelle che all'interno della produzione sono le bottiglie migliori di quell'annata. Il prosecco però è tutto millesimato perché viene fatto ogni anno fresco. In teoria, nelle aziende vinicole, in questo periodo, siamo a ottobre, in questo periodo, vasche di prosecco vecchio, di vino vecchio, dell'anno prima o dell'anno ancora prima, in teoria non dovrebbero essercene più di tante, più di tanto. Dovrebbe essere finito il prosecco. Punto. Il fatto sta che il prosecco, lo sappiamo benissimo, è un vino che deve essere bevuto, che deve essere bevuto fresco. Non che se si mantenga per qualche anno si rovini, cambia solamente, chiaramente, i suoi aspetti qualitativi, gustativi, olfattivi, ma non è che diventa un vino cattivo. Evolve esattamente come evolvono tutti gli altri vini. Comunque sia, prossime feste, stiamo andando avanti, ci stiamo avvicinando a passo speditissimo verso Natale, verso le feste, i festeggiamenti, il capodanno. Si incominceranno a comprare, cominciamo già a comprare le bottiglie da mettere da parte, da mettere in frigo per le feste, eccetera, eccetera, dateci un occhio. Se prendete un metodo classico, uno champagne, scegliete quel millesimato, ma prendete anche quello senza il millesimato, che è un vino ottimo, di qualità, e è buonissimo da bere. E per quanto riguarda il prosecco, sì, prendete pure il prosecco millesimato, il millesimato, perché va benissimo, non fissatevi però solo sul millesimato, perché anche il resto del prosecco, è un ottimo prosecco, ed è sempre del millesimo. Quindi, in alto i calici, con un ottimo millesimato, il millesimato e cin cin, e vi ricordo di seguirci sempre sui nostri social, Instagram e Facebook. Alla prossima puntata, ciao! Alla prossima puntata, Alla prossima puntata, Alla prossima puntata,